Vincere tre volte la gara di Le Mans, la 24 ore di Le Mans, la categoria dedicata alle vetture pro per il turismo e poi avere un team per far crescere i giovani pari dei pizzi, questo vuol dire avere alle spalle una persona esperta che ti può aiutare nella crescita Parliamo di Jimmy Bruni, pilota ufficiale Ferrari, vince Le Mans per la terza volta e nonostante questo aiuta i giovani a crescere Esatto, Jimmy per la terza volta ha vinto con la Ferrari GT la 28 ore di Le Mans ma non trascura i giovani ragazzi che sta aiutando non solo con il team ma anche partecipando come tutor al Summer School a Sarno la settimana prossima quindi sarà uno dei piloti ufficiali che parteciperà alla formazione di questi ragazzi Ha avuto sempre molta attenzione ai confronti dei giovani perché sa quanto è difficile emergere in questo mondo quindi ci ha supportato con la sua professionalità, le sue conoscenze al fine di far crescere in modo sano questi ragazzi che si approcciano al mondo del kart Per il Jimmy Bruni Racing Team la pista di Siena è quasi una pista di casa Eh sì, siamo vicini circa un'ora e mezza dalla sede del team che è a Formello quindi veniamo frequentemente qui Ci sono tanti giovani, giovanissimi, Pizzi, Francesco Pizzi ma c'è anche chi viene addirittura dagli Emirati Arabi Uniti come Rashid che gareggia nella Mini e sceglie proprio Jimmy Bruni per crescere in Europa un giovanissimo che quindi punta anche alle vette del motorsport Sì, Rashid è un bimbo molto appassionato ovviamente si caricano di tanti sacrifici per venire qui a correre però l'Italia stanno tutti con l'università del kart per cui passano ovviamente tutto il periodo estivo qui vivono in Austria perché la mamma di Rashid è austriaca mentre il papà appunto è di Abu Dhabi e cercano di fare il massimo delle gare disponibili e dalla scorsa gara di Lonato ha iniziato questa avventura insieme a noi e con il supporto di Jimmy sta cercando di fare un buon campionato Per gareggiare all'interno del Jimmy Bruni Racing Team è obbligatorio avere nel sottotuta lo scudetto della Ferrari ufficiale come Francesco Esatto, noi siamo tutti ferraristi ovviamente perché Jimmy è un pilota ufficiale anche Rashid è appassionato a Abu Dhabi c'è il Ferrari World per loro è fondamentale essere parte di un gruppo che è legato alla Ferrari Grazie